Noi ci crediamo fino alla fine, fino a quando non finirà il campionato, noi dobbiamo provare a tutti i costi ad arrivare per off, con un po' di entusiasmo in più da parte nostra e da parte di tutta l'ambiente. Incominciando da sabato, sappiamo che affrontiamo una buona squadra, sappiamo che affrontiamo una squadra che sta lottando come noi per arrivare lassù, dall'inizio che sta facendo un ottimo campionato, l'affrontiamo sabato sperando di fare il risultato. Non lo so, si vede che mi ha visto molto meglio delle altre volte, però io l'ho sempre detto, ero sempre pronto e mi sono fatto trovare il momento giusto, ho dato sempre il massimo in allenamento e lui fa le scelte e ha voluto che in queste due partite mi partiva titolare. Grazie